A chi è indirizzato questo convegno? La mission di questo convegno? Amministrazione pubblica, amministrazione privata? Ma è indirizzato a tutti. L'obiettivo che abbiamo con questo programma Eurocamp è quello di avvicinare l'Europa ai cittadini, ai territori, alle imprese, agli enti locali. Nel corso del mio mandato sono venuto a conoscenza di necessità, soprattutto da parte delle amministrazioni locali, di avere un supporto per la progettazione europea, soprattutto per quanto riguarda le decine di programmi che sono cosiddetti diretti e quindi abbiamo messo in campo questa iniziativa, l'abbiamo chiamato Networking Event proprio per fare in modo di creare un network di professionisti, di imprese, di amministrazioni locali virtuose che intendano sviluppare una progettazione di qualità per i fondi europei. Troppo spesso ci lamentiamo che non siamo in grado di gestire, che rimandiamo indietro le risorse europee, altre volte ci lamentiamo che non siamo in grado di intercettare le risorse cosiddette dirette. Questo programma, questa iniziativa serve a dare un supporto tecnico. C'è una fase formativa come quella che abbiamo fatto quest'oggi e poi c'è una fase di supporto proprio tecnico, con una piattaforma informatica che dà i primi input per avviare la progettazione. La mission è quella di informare i calabresi, gli abitanti di La Mezza Terme sulle possibilità che l'Unione Europea offre e mette a disposizione dei cittadini concretamente, finanziariamente, per fare una serie di cose riguardanti l'occupazione, l'energia, i cambiamenti climatici, inclusione sociale, innovazione e ricerca. Questi sono obiettivi fondamentali di questo secolo, io vi compreso la digitalizzazione intelligente. Quindi molti cittadini non sanno che hanno a disposizione 200 miliardi per fare dei progetti in contatto diretto con Bruxelles, senza passare per Catanzaro o per Roma. Quindi è una somma molto importante. E poi ci sono anche tutti i mezzi finanziari relativi ai fondi strutturali di investimenti che questi passano attraverso le regioni e per la regione Calabria ci sono 4 miliardi e mezzo da spendere dal 2014 al 2020.